If I hit the switch, I can make the ass Stop, drop, and pop it And after you pop it, please put it in my pocket Look here, I need a spot Hey la ragazzi, sono sempre io il vostro Dicora25 Ed eccoci qui per un nuovo video Un nuovo video in un server E voi direte, bah saranno dei sonni di minigame No invece Questo server è MC.pixelrod Qualcosa Adesso sinceramente non lo so Non me lo dice Comunque è il server di MC.pixelrod Ex-Lailcraft Di cui Marci è, non so, fondatore, capo, quello che è E quindi Ci togliamo dall'F5 e io sono in questo server Non per fare dei minigame, come vi dicevo Bellissimo quella cosa da sopra Fighissima, pensate a farla Nella mia isola Vabbè, dicevo, non per fare un minigame Ma per entrare in Universe, ragazzi Qualcuni di voi diranno Vabbè, ma è appena iniziata una serie Skyblock Perché l'avevo iniziata proprio giusto due settimane fa Perché ero ormai conscio che Universe non sarebbe mai più rinata E invece cosa mi fa? Al buon Marci mi fa Lo scherzo di creare il New Universe, ragazzi Aspetta che torno alla Hub, ragazzi Voglio farvi vedere una cosa perché non ho letto neanche io C'erano delle indicazioni che dicevano Pixalroad.net Ecco, ragazzi New Universe Costruisci la tua isola Da solo o con un team di amici Completa tutte le challenge E raggiungi il livello massimo scalando tutte le classifiche Create, challenge, parkour, classifica, kymet, luck, game Shop privato e nuovo sistema di shop Sono in 54 online E io adesso direi di entrare nella mia Universe Vi dico già che ho provato già a fare Isgo Is perché è la mia isola Ma non ho fatto niente, ragazzi Facciamo Isgo La mia isola già ce l'ho Ma non ho creato nulla, ragazzi Qua raccogliamo adesso il grano Appena adesso arrivati Anche se credo che non crescerà Perché io acqua qua non ne vedo Però ho raccolto il grano Posiamolo qua dentro Qua c'è il solito kit iniziale Ma la cosa sorprendente è Che vi danno, vabbè Il cobblestone generator Ve lo danno già loro Rompi questo blocco per attivare il generatore Prima rompo il cartello e me lo prendo E lo metto qua dentro Tolgo anche questo perché è vuoto E non serve a niente Spero che non serva a qualcosa Ok Ma la cosa interessante Sapete qual è? È che C'è una cosa speciale in questo Cose generator Adesso, mucca, non ammazzarti Perché io mi ricordo Nella scorsa Universe Mi ricordo che eri morta praticamente tutta Tutta, subito Mi ricordo, ragazzi Che episodio mi era morto subito Non mi ricordo neanche se era morta in diretta O da solo Mentre io non registravo Però La cara mucca Del vecchio Universe Mi stava simpatica Ma si è ammazzata Ora Ho raccolto quest'albero E vabbè Non fa niente Cioè sinceramente Lì c'è un albero ancora Sono curioso di sapere Però se c'è il danno da caduta In questa Railcraft Perché l'Aircraft Mi piaceva appunto L'Universe di Railcraft Mi piaceva appunto Perché non aveva il danno da caduta Adesso mi butto No Si C'è il danno da caduta Ok In questa Railcraft Cioè in questa Universe C'è il danno da caduta Quindi Niente Non so cosa dire Adesso Vabbè Me ne vado Me ne torno sull'isola E faccio le prime cose La crafting già c'è Quindi non devo farmela Però voglio farmi un piccone Per farvi vedere Proprio quello che vi dicevo E sono veramente ragazzi Entusiasta Che sia tornato In Universe Ma voi potrete dire Ma Poi anche Anche no Perché tanto c'è l'altro Skyblock Ma la pensavo come voi Mi ho detto Sono andato a vedere lo shop In generale E ho detto Qua c'è molta più roba E In Universe Non si tradisce ragazzi Non si tradisce la famiglia Quindi tornerò anche su In Universe Poi sarete voi a dirmi Se vorrete vedere Entrambe le serie parallele Perché può essere anche che voi Vogliate solo concentrarvi su una E allora potrei abbandonare Una delle due Ma mi dispiacerebbe abbandonare Una delle due Tanto sono due esperienze Completamente diverse Non tutti lo sapranno Ma vedete C'è la possibilità Che vi sponi anche del carbone E se non vi si brucia Magari avete la fortuna Poi di prenderla Ma io sto scavando ancora Perché spero di trovare L'altra cosa segreta Invece che la cobblestone Può sponare il carbone Ma non solo il carbone Può sponare anche una cosa Ma è una cosa diversa Ah tra l'altro qua ci sono le Le Come si dice Le challenge Anche qui Che sono identiche A quell'altra server Adesso vi faccio vedere Facciamo E ci escono le challenge Sono uguali ragazzi Sono la stessa cosa Identica cosa Qua non so se ci sono i poteri Quello si No Mi sembra che i poteri Non ci siano Quindi è già un po' più complicato Farmare Perché io di là ragazzi Ho scoperto che ci sono i poteri E posso farmare le legne A go go ragazzi Ecco ancora il carbone Intanto può essermi utile Per farmi delle torce Facciamocile subito Delle torce Intanto vi faccio anche Il piccone di pietra Perché ci può stare Ok Qui poi ci sono ragazzi Le key Che sono più facili da ottenere Da quel che ho capito Ok Possiamo vendere Come sempre la cobblestone O possiamo vendere La stone Che si guadagna di più Perché mi ricordo Che in l'aircraft Mi concentravo A vendere la stone L'isola tra l'altro Sotto è veramente bellissima È una cosa fenomenale Torniamo su però Ok Devo fare una cosa Che ho scritto Iceland Ah no Qua non è Non è come l'altro Che schiacciando Iceland Ci sono varie possibilità E poi tra l'altro Posso settare la spawn Non lo so Vabbè Comunque continuo A consumare Il mio piccone di legno Ecco Un blocco di dirt Avete visto Un blocco di dirt Cioè Completamente a caso Un blocco di dirt Completamente a caso Ragazzi Cioè questo Ecco ancora coal Tra l'altro Questa cosa qua È molto positiva Perché adesso Non so quanto si vende Al coal però Ancora dirt Eccolo ragazzi Quello che volevo mostrarvi Un blocco di iron Ovviamente ci sarà Da smeltarlo Però Blocco di iron Ragazzi Cioè più figata di così Ma cosa volete Ancora blocco così Vabbè sprechiamo No L'iron Devo prenderla col piccone Adesso spreco il mio piccone Ragazzi E poi andiamo a farci un giro Allo shop Perché voglio mostrarvi Per bene Come funziona tutto Qui da quel capito È Siamo in euro Come Money Facciamo Slash Money Abbiamo 10 euro Non ci compro neanche Un minecraft premium Ragazzi Proprio uno schifo Però spero Ragazzi Di poter costruire Un'esperienza di gioco Eccezionale In questo nuovo L'aircraft In questo nuovo No Perché dico l'aircraft In questo nuovo Universe Ragazzi In questo nuovo Universe Spero di poter costruire Un'esperienza di gioco Eccezionale Perché Sì Quello di Everman Mi piace Ma non è la stessa cosa Ragazzi Non è la stessa cosa Perché alcune cose Sono diverse Non si può comprare Quasi Non si può comprare Tantissima roba Invece qui ho visto Che lo shop è veramente Enorme Vabbè comunque ragazzi Senza annoiarvi Io continuo a distruggere Tra l'altro vi da anche Il blocco di stone Avete visto Se non c'è uno C'ha Silk touch Si prende la stone direttamente Non so quanto possa servire Però Cioè Avete capito È fantastica come cosa Vabbè comunque Io finisco di consumare Il mio piccone Di legno Ragazzi Ecco È andato bruciato E poi ci vediamo dopo Allo shop Andiamo a vedere Quanto facciamo Con questa piccola Questa poca cobblestone E questa poca stone Che abbiamo guadagnato Ok ragazzi Il piccone È andato Allora Vediamo quanta stone c'è qua Sette Faccio la stessa Quantità Anche di Vabbè no Ma senza fare così ragazzi Tanto comunque Lo vedrete voi stessi Metto a cuocere il ferro E intanto andiamo al shop Io ho provato a scrivere shop E non mi importava Da nessuna parte Allora ho detto Ma com'è Poi mi è capitato Di vedere il video Di marce E ho scoperto Che devi scrivere Eh ho scritto Sbagliato Warp shop ragazzi Perché se no Non vai nello shop Ed eccoci qui Allo shop Qui dice Tiene brutto shift Per comprare la stack È una cosa importante Perché nella vecchia universe Mi sa che non c'era Allora Qua ci sono le varie cose Allora Qua c'è la stone Che si compra a 30 A blocco E la cobblestone Che si compra a 6 A blocco La cobblestone Si vende a 1 A blocco Quindi comunque ragazzi Ci faremo 37 dollari E la stone Che si vende a 12 A blocco Quindi ragazzi Se voi la cuocete Ci raddoppiate Cioè No Fate 12 volte Di più di guadagno Quindi ora Provo a vendere la stone Non me la vende Ah ok Forse Ah ecco Perché mi piazzava il blocco Ok Ho venduto la cobblestone Ho fatto C'ho 92 di ping Vabbè Non mi interessa Però Io vorrei sapere Quanti soldi ho Le mie 0 kill Facciamo money E ho 94 Adesso vendiamo la cobblestone Ragazzi Vi faccio vedere Ma giusto giusto Ne vendo 5 Perché Non conviene E 5 di cobblestone Vedete Però Ci faccio poco Con la cobblestone Quindi La mia idea attuale Sarebbe quella Di tornare all'isola Ovviamente Ho 199 No voglio fare 100 Ragazzi Non scherziamo Ok 100 Torniamo All'isola E direi che Da ora in poi Cioè Alla fine Non mi conviene Fare la Vendere la cobblestone Quindi venderò la stone Un po' come facevo Nel vecchio Universe Dai muccozza Però non ti uccidere Perché è veramente Cioè Mi fa esasperare Se no Ok Qua comunque Continua a crescere Il grano Quindi non so Se c'è una fonte D'acqua vicino Potrebbe essere Nulla è Precluso Allora Però direi di fare una cosa Allora Quest'albero qua Faccia un po' come La vecchia Universe Che dico Me lo tengo Me lo tengo Poi alla fine La batterò Però questo è bello Il vecchio Invece il vecchio Della Universe Era bruttissimo Ve lo ricordate Tutto alto Sottile Non mi piaceva E vabbè ragazzi Questo è altro grano Comunque ci sono le varie challenges Ragazzi Che sono uguali Vi ricordo Questo Vedete devo fare 21 panini Che me ne manca ancora un botto Anche qui credo che ci sia lo warp Per prendere il cibo gratis Speriamo almeno Perché se no Non avrebbe alcun senso Ok Ah io l'albero Ho intenzione di tenerlo Ragazzi Però tutte queste foglie Ecco bene La boscella non è caduta Tutte queste foglie Intorno Non mi interessano C'è gente Intanto che apre le ceste rare Speriamo di un giorno Di poterlo fare anche noi Tra l'altro Non so se Votando l'unione ogni giorno Adesso mi daranno ancora La La key Potrebbe essere Ah Tra l'altro Non ci sono solo le challenge Ecco questo me lo scordate di dirvi Oltre alle challenge Che si fanno con slash c C'è l'opportunità di fare Slash Achievements Di là Se voi fate Slash Achievements No Slash Challenges Vi dice Dei challenges Invece Slash Achievements Guardate Gioca 30 minuti Gioca un'ora Gioca 12 Un giorno 3 giorni Una settimana 12 giorni E 2 E 2 settimane Poi c'è Mi dispiace Devo fare sempre così Non c'è un tasto Per tornare indietro Distruggi 64 di cobblestone Hanno già fatto 46 Poi 2 56 Ci sono vari blocchi Legna Così ragazzi Adesso Facciamo una cosa Rompò ancora cobblestone Così magari possiamo Fare l'obiettivo Delle 64 Ok Hai ricevuto un piccone di ferro Del cibo E 500 euro Ragazzi 500 euro Cacchio ragazzi 500 euro ci sta Cibo Ecco il cibo Me l'hanno dato Quindi me lo magno Tutto Me lo pappo Perfetto Posiamo Quindi ragazzi Avete potuto vedere Che vi ricompensano Anche per bene Non è che Non fa schifo È una bella ricompensa Io qua lo tolgo Perché vi ricordo Che a me non piace Cioè Mi piace avere l'albero qua Ma le siepi qua intorno Proprio mi fanno schifo Perfetto Questo blocco lo metto qua dentro Comunque ragazzi Avete potuto vedere Come si fa Ora facciamo Warp shop Perché voglio vendere Questi 4 di ferro Vediamo quanto ci faccio Ragazzi Perché È già un inizio Ecco Compra L'iron non si può vendere Da quel che ho capito E questo è un peccato Questo è un peccato Ragazzi Perché potevo venderlo Ma Evidentemente Non si può Quindi niente Me lo terrò Le litre 10.000 Sono una figata Ragazzi Costano Ma sono una figata Comunque niente Quindi ragazzi Credevo di poter fare dei soldi Facili con un po' di ferro Invece no Si Bisogna tenersela al ferro Però non è poi una cosa negativa E adesso farmi un altro po' di Cobble Sperando di trovare sempre più carbone Perché poi il carbone mi serve molto Perché io Cuoccio la cobblestone E la vado a vendere Ragazzi E comunque Prometto che non abbandonerò Né uno né l'altro Cioè proverò A tenere in contemporanea Le due serie Poi vedremo ragazzi Come vorrete vederlo Magari porterò un episodio Una settimana Universe Una settimana Skyblock Online Tutto quello poi dipenderà Da voi Oppure potrei portare anche Il mercoledì Universe E Il venerdì Skyblock Online Sarebbe La stessa serie Ripetuta Su due server Però ragazzi A parte che su Everman Sono molto più ricco Però adesso Perché ho trovato anche un metodo Per farmare dell'iron Che no ragazzi Prima di salutarci Adesso raccolgo Lo smeraldo Perché Chi se lo poteva immaginare Che spawnasse pure lo smeraldo Tra l'altro adesso Spero che non bruci Lo smeraldo Perché A parte che ho visto Che anche lo smeraldo Non si può vendere Però Cavolo Ci sta Con Stavo dicendo condire Abbellire l'isola Con gli sblocchi di smeraldo Non serve mica male Uh Fantastico ragazzi Poi ti da anche l'esperienza Lo smeraldo Niente Adesso raccolgo Altra po' di cobblestone Ragazzi E E vi dicevo È una figata È una figata Il poter rigiocare A Universe L'isola tra l'altro Adesso è ancora più bella Io mi ricordo Che già l'Universe Primo Universe L'isola era veramente Carina Dove sponavi Ma adesso È ancora più bella ragazzi È veramente una figata E poi anche il fatto Che ti dicano Le varie statistiche Di fianco Non è Una cosa brutta Qua devo mettere un blocco Perché mi cadono i blocchi giù Ora Come vi dicevo A parte il ferro Voglio smeltare anche la pietra Perché la pietra smeltata Mi dà Una valanga di soldi In confronto alla pietra Non smeltata Quindi niente ragazzi Come vi dicevo È veramente bello Poter tornare su Universe Guardiamo quanto ci manca Ci mancano un po' di blocchi Poi c'è addirittura anche A parte la cobblestone C'è da distruggere la terra anche Vabbè ma la terra Non so quanto senso abbia Cioè tipo Se io faccio così E poi la ritolgo E la rimetto E poi la ritolgo E la rimetto E poi la ritolgo E la rimetto Vediamo se Me lo sblocca Perché sennò Non avrebbe alcun senso Sì me l'ha tolti Cioè ragazzi È incredibile Io potrei Smontare tutta la mia isola Rimontarla Mettendo i blocchi E mi darebbe L'obiettivo Beh è una gran figata Questa Adesso faccio una cosa importante Non si può Questa non è Coerce Dirt Sì però Non me lo fa zappare Per farla diventare terra normale Peccato No questa non la voglio zappare Direi che per questo primo video Di Lel Di Di universe No lel Di universe Mi sbaglio sempre Di universe è tutto Lasciate un like Con commento Iscrivetevi Condividete questo video Se volete Fate Sapere in giro Che è tornata La universe Ragazzi Perché Due settimane fa Ho fatto il video E dicevo Ritorno di universe E forse me la sono Tirata in senso positivo Perché Due settimane dopo Il buon Marci D'accordo non so con chi Ha deciso di far tornare La universe E sono veramente contento Tra l'altro Da quello che ho capito Anche Marci Farà una serie In cui ogni tanto giocherà Non lo so Sinceramente non è che ne interessa Però È una cosa interessante È una bella modalità Che io apprezzavo veramente Molto Nel vecchio Nel 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 Che ora Si è trasferita Anche in Pixel Road Vado indietro E con la mia Muccozza dietro Vi salutiamo Ragazzi Per questo primo video Della Della Universe No L'aircraft Della Universe È tutto Universe Di MC Pixel Road Ragazzi Vi ricordo Il server match Comunque C'è sempre Lì a fianco E si spanna Da solo E potete Vederlo Quindi Per questo primo video Della Universe Della Pixel Road È tutto Ditemi la vostra Sotto nei commenti Per quanto riguarda La doppia serie Il fatto di portarla Insieme Questo video Uscirà mercoledì E poi venerdì Uscirà il terzo episodio Della Skyblock Per questo video È veramente tutto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi Condividete questo video Se volete E da Dicore 25 È tutto E good luck Ragazzi Ciao Ciao Iscrivetevi Iscrivetevi Iscrivetevi